I sistemi Corona di Tantec permettono un'estrema customizzazione. Grazie all'utilizzo dei generatori di nostra produzione da 200, 1000 e 2000 Watt, le potenzialità sono pressoché infinite. L'unico limite del Corona è il fatto che non si possano trattare superfici conduttive come quelle dei metalli, ma che sia dal trattamento di piccoli fori, come quelli degli hub delle seringhe, fino al trattamento di grandi lastre di 2 metri di larghezza, il Corona non ha pressoché limiti. Grazie all'utilizzo di questi generatori standard, noi di Tantec possiamo customizzare gli elettrodi che permetteranno il trattamento sulla superficie, siano essi in ceramica o in metallo. Sul nostro sito internet potrete trovare una vasta gamma di sistemi standard, ma dovete considerare che circa il 45-50% di quello che produciamo sotto forma di Corona è customizzato per il cliente. Perciò non avete dubbi sul contattarci per trovare quella che è la vostra soluzione con i trattamenti Corona.